Buongiorno, oggi ci troviamo in San Geronimo Milanese, nella frazione di Sesto Ulteriano. Ci troviamo in una zona di soleville, ville singole, ville bifamiliari. È una zona molto servita perché ci troviamo nelle vicinanze degli svincoli e delle tangenziali. Oggi vi presentiamo una villa singola su un lotto di mille metri quadrati, disposta tutta l'abitazione su un unico livello, con locale sottotetto e locale cantinato. Andiamo a visionarla. Eccoci alla visione dell'immobile, qui abbiamo l'ingresso, abbiamo un'ampia sala molto luminosa grazie alle due porte finestre e l'ampia finestra singola. Ora vi presento la cucina abitabile, con una metratura molto ampia, con questa porta finestra che ci consente l'accesso al comodo portico da utilizzare nei periodi primaverini e estivi. Qui poi attraversiamo, arriviamo nella zona notte dove troviamo un ampio bagno con una vasca idromassaggio. Troviamo anche due camere matrimoniali molto ampie tutta la zona notte a tutta la pavimentazione in parquet e per finire troviamo un secondo bagno, anche questo di ampia metratura. Dalla sala troviamo una comoda scala che ci accompagna al locale sottotetto, oggi adibito al locale hobby, due camere e un locale lavanderia. Tramite la scala interna arriviamo alla taverna dove troviamo un locale lavanderia, un'ampia cantina, il locale taverna molto ampio e un altro locale cantina. Sempre dal locale taverna abbiamo l'accesso all'ampio box. A completare la villa singola troviamo il giardino che circonda l'abitazione sui quattro lati. Reepiloghiamo quanto visto, abbiamo appena visionato una villa singola disposta a tutto su un unico livello con locale cantinato e locale sottotetto con un lotto di mille metri quadrati. Per visionare questo immobile potrete farlo presso i nostri social network Facebook e Instagram e pagina YouTube. Per quanto riguarda la visione di persona potete condannarci presso i nostri uffici in San Giuliano Milanese, in via Gorki 8, in San Donato Milanese in via Morandi 23 e in Milano in via Molino delle Armi 5. Vi aspettiamo per visionare insieme questo immobile.